salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale bentornati qui su project zomboid continuiamo la nostra sopravvivenza in questo mondo ormai invaso dagli zombie passiamo da quelli di resident evil a questi project zomboid ci siamo lasciati che siamo riusciti a trovare un piccolo riparo la situazione non è proprio rosa in quanto abbiamo comunque questa ferita al collo che per il momento non sembra lasciarci ancora in pace quindi dobbiamo ogni tanto andarci ovviamente a cambiare le nostre bende la situazione non è proprio molto rosa perché comunque non riusciamo ancora a dormire in quanto abbiamo dolore e se ci fa male qualcosa non possiamo dormire e quindi poi lui è stressato è nervoso tutto quanto tutta una serie di fattori che potrebbero diventare un po pericolosi per di più adesso ha anche cominciato a piovere quindi come se non bastasse giusto per non far rendere le cose troppo troppo facile vediamo un attimo come stiamo messi perché siamo anche abbastanza cari e questo ovviamente non ci aiuta quindi direi che magari possiamo anche fare che magari vediamo che cosa potremmo portare via purtroppo con lo zaino è anche piccolino abbiamo quello da scuola quindi più di tanto non possiamo caricarlo e già sta bello bello pieno e vediamo un attimo forse sono le assi quelle che pesano un bel po lasciamole un attimo qua ok un pochetto siamo riusciti a a diminuire ma non abbastanza purtroppo e sta un attimo vedendo cosa potremmo andare a lasciare perché ovviamente andando con un carico eccessivo poi ovviamente fa insomma tende a far stancare di più ovviamente il nostro personaggio e quindi non è non è proprio il caso siamo agitato nervoso e teso dolore e carico abbastanza pesante il problema è che abbiamo anche un sacco di roba qui dentro lo zaino che possiamo mangiare magari giusto per farci buttare via qualche cosa questo che è la maionese che cosa fa fa meno 30 annoio più 10 noi già siamo questo è stanco più che altro mangia un po' di formaggio formaggetto fresco ok il cibo a posto vabbè siamo leggermente diciamo con il peso al limite però per il momento proseguiamo ci serve da trovare un posto in cui stare ragazzi assolutamente perché ecco stiamo vagando già da diverso tempo con la roba piena ed è un po' un casotto ci serve da svuotare un po' di il nostro inventario per poter girare più leggeri più veloci e poter fare anche un carico magari maggiore di roba perché di cose indietro ne abbiamo lasciate e poi bisogna anche pensare al futuro perché insomma sappiamo che dopo tra un po' anche se non so effettivamente quando andrà via l'elettricità quindi tutta la roba che c'è in giro alla mappa nei frigoriferi e tutto quanto andrà perduta e poi andrà a chiudersi anche l'acqua quindi insomma dobbiamo cercare di iniziare a pensare come poter insomma sopravvivere quando tutto questo accadrà per esempio questa lattina volta la potremmo pure buttare e abbiamo la fosciatura sporca da andare a cambiare assolutamente bisogna farlo pure veloce perché vedete la barra della vita scende proprio in maniera vertiginosa quindi bisogna veramente muoversi il problema è che non vorrei uscire con la pioggia e anche abbastanza buio ti stai annoiando e vediamo un attimo non c'ho ovviamente nulla perché insomma c'ho i libri per cucinare ma il performance model vediamo un po' se se lo scarica non lo so se l'ha messo per terra qua c'è un walkie talkie che però non ci serve quello è comodo nel caso in cui si giochi in multiplayer per poter parlare veramente utilizzi poi la chat vocale all'interno del del gioco perché mi sembra che altrimenti non ci sia il modo per interagire mi sembra ma non vorrei dire non ci ho giocato molto in multiplayer cioè ci ho giocato molto tempo fa ma potrebbero aver aggiunto cose che quando giocai io non c'erano e niente ragazzi direi di uscire e vediamo prestiamo attenzione perché qui la situazione veramente è critica magari utilizzando anche il il rumore della pioggia possiamo anche cercare di diminuire il nostro di rumore andando in giro stiamo usando oh porca puttana aspetta 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 frate la situazione non è affatto buona credevo ce ne fossero meno di no porca e niente via 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 porca troia bendati 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 e niente rientriamo qua dentro stavamo attenti porca tratta straccio e straccio dannazione questo lascialo ok credito molto leggera non sta andando bene ragazzi non c'abbiamo un'arma che sia meglio di sto la padella credo che abbia più marca puttana via 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 corri 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 apre sta cazzo di porta dannazione mamma mia straccia dai no no la situazione qui è molto critica e quando mai ok via via poi con sti cazzo di rumori ne attiriamo degli altri zombie ovviamente quello non so sarà dove è venuto dai e niente ragazzi ci stiamo avvicinando alla fine del nostro personaggio credo stiamo praticamente feriti ovunque e porca trota non si vede un cazzo di niente aspetta rimuovi bendano stiamo facendo tutta sta roba mentre ci stanno inseguendo muoviti abbiamo solo sei stracci 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 allora straccio pulito se non me lo fa fare devo fermare ovviamente ok fasciatura rimuovi fasciatura e andando in giro di notte è un casino assolutamente è un casino non è stata una buona idea vediamo un po' qua rimuovi i vetriotti e cazzo c'è uno dentro aspetta cerchiamo di fare questo eh quello se ne è nato però uh che bastardo attene no io cazzo che non si riesce a vedere e potrei benissimo andare ancora peggio sa anche mezzo zoppo che c'è ferite minori mi sa che mi hanno tipo preso da qualche parte eh avambraccio destro proprio pessima cosa c'è l'allero guarda quanti ce ne stanno che mezzeguono non se ne apre una donna quanti non è stata assolutamente una buona idea ragazzi rimuovi aspetta rimuovi ok vende straccio ok le sto comunque pulendo utilizzando la nostra acqua sperando che ce ne ce ne abbia un bel po' non so quanto ce n'è in verità spero ce ne sia però che qua praticamente dovrò rimuovere e cambiare bande più e più volte guarda quanti punti siamo stiamo messi ma uh facci vostra e niente ci hanno graffiato mi sa che mi sa che è la nostra fine se sopraggiunge stomacato niente niente stavo dicendo se sopraggiunge lo stato stomacato del nostro personaggio non rimarrà tanto in vita di solito è il momento in cui sta per morire insomma lo stadio di morte e niente si sta avvicinando qua che cazzo dove stiamo sembra tipo un fiume hanno praticamente preso e graffiato ovunque rimuovi benda straccio e niente purtroppo siamo capitati che è notte per far avanzare più velocemente avrei dovuto dormire e il problema è che non posso dormire perché ho dolore ma tra l'altro non potevo manco dormire là lo stomacato non aiuta però vediamo se riusciamo a trovare un posto dove stare magari che non ci attaccano mi spiace che si riesca a vedere poco ragazzi non è colpa mia è notte purtroppo dimmi che posso entrare da qualche parte qua questo furgoncino batteria telo impermeabile si un sacco di bella roba ma non c'è niente che possa servirmi ma sarà un posto tranquillo il problema è che ovviamente essendo ferito anche i i colpi eccetera non ne risentono non siamo così agili e forti dai niente si è rotta la ok si è rotta la padella buttala prendiamo un cortalo da cucina anche se quello sarà subito il primo che si rompe ok straccio la cera cioè proprio male male qua inevitabilmente la barra della vita andrà a calare cioè è solo rimandata la nostra fine veramente lo so ci ho giocato insomma quindi come ho detto prima sopraggiunge lo stato stomacato purtroppo non c'è poco da fare ce la siamo giocata male me ne rendo conto cazzo non c'ho più manco l'acqua non ho più manco l'acqua questa la possiamo buttare non c'è una oh dio stavo andando praticamente in faccia non c'è una casa niente perlomeno per morire in un posto dignitoso al coperto piano questa mi sembra addirittura aperta sta porta ma che ci siamo già venuti qua sai che ci siamo già venuti qua alla fine gira e gira guarda dove siamo capitati è il bar dove siamo già venuti a parte che non si vede niente per via della cosa però si qua eravamo già venuti allora aspettate un attimo tutto proprio qualsiasi cosa lavati per cortesia lavati vediamo la vedo difficile ragazzi però vediamo un attimo cerchiamo di fare del nostro meglio ma vi ripeto con lo stato stomacato non c'è molto da da sperare dai frate ok ci siamo lavati aspetta che dobbiamo toglierci le bende è il problema che io non ne ho delle altre forse si aspetta c'ho qualcosa straccio sporco aspetta se mi devo avvicinare tutta no wash straccio pulito tutto quanto dai veloce 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 ok rimuovi benda dai guarda la roba un braccio spalla rimuovi benda ok straccio straccio e mo sarà anche a sotto dovremmo perdere tempo a curarci il problema ci servirebbe tipo di disinfettanti qualcosa del genere quelle potrebbero aiutare ma è tosta è veramente tosta anche perché mo la barra della vita difficilmente salga perché comunque c'hanno a parte stavano un danno grave e ci vorrà ci vorrà un po' ripeto non no aspetta che straccio sporco fermati no e niente vabbè metti con lo sporco un tempo giusto per non rimanere senza devo farmene degli altri devo trovare qualcosa per fare sti stracci e perlomeno ce li abbiamo puliti o per avere un bel po' di cambi insomma sennò tutte le volte è un bel un bel casotto rimuovi benda ok quando togliamo quella sul collo proprio la vita scende riempi bottiglia vuota ok straccio pulito lava lava tutti i vestiti velocizziamo un pochetto sennò ci mettiamo un casino fortuna è una zona abbastanza sicura questa e poi dovrei mangiare ok abbiamo detto cifro cibo mangia tutto proprio c'è proprio tutto quanto perché siamo pure tristi c'hiamo tutto quindi finimo se tutto sto gelato perlomeno questa è già di nuovo sporca ma che cazzarola ruomi benda straccio straccio pulito lo so ragazzi è una rottura delle scatole però slip ok possiamo addirittura dormire quindi ce lo permette malgrado la tristezza dai che la vita comunque risalita un po' aspetta mi devo ricambiare tutte le fasciature però aver mangiato e ehm e comunque dormito un po' ci ha aiutato ok straccio rimuovi benda eh straccio straccio lo so un po' macchinosa sta cosa ma rendo conto sarebbe magari comodo poter mettere più di un istruzione magari in coda però va bene dai rimuovi benda e ce l'ho c'è uno solo di straccio vai straccio e poi straccio pulito tutto fortuna ancora c'ha l'acqua perché quando non ci sarà più sarà in casotta tra l'altro il mezzogiorno è ancora piove e che cos'è rimuovi benda dal collo dai 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 che faccio tanto per cercare fallasa lì ok collo plane perché rosso non so cosa sia plane straccio forse non basta lo straccio e no quanto pare no e niente tocca tenercelo allora straccio pulito tutto quanto perché non ho degli antidepressivi vediamo un attimo prendi pillola magari un po' ci aiuta per stare un po' calmi non so eh o lei non so che cosa allora sono un po' triste trovo modo di rallegrarti sono annoiato no sono assonnato sono ferito sono in agonia so c'ho tutto praticamente ditemi uno stadio e ce l'abbiamo allora aspetta un attimo però questi qua i jeans e tutta quanto potremmo stracciarli per fare delle eh a parte che so pure meglio dei miei quindi magari li prendiamo e non me li fa non me li fa tagliare vabbè forse non si può ok perlomeno si incomincia a vedere qualcosa vediamo se magari qua c'è qualcosina che abbiamo dimenticato che ora potrebbe tornarci comodo purtroppo dovrei cercare di uscire da sta da sta zona per cercare appunto di andare in esplorazione il problema è che è un casino la mappa l'abbiamo trovata ma non è quella nostra ovviamente aspetta questo c'è uno zaino si buono c'è uno zaino enorme questo qui qua dai muori muori ok ok indosso sulla schiena perfetto e montoria tutta la roba che sta qui però aspetta come si faceva in teoria si poteva mettere tutta insieme allora aspetta no in pugna secondario e mo tutta sta roba qua e ripeto in teoria si può selezionare tutta così e la si trascina sul e qua mo lui si mette e scambia tutto quanto questo è comodo perché sennò sarebbe stato un casino insomma se non potevamo utilizzarlo in un altro modo così lo tieni da una parte e lui inizia a spostarsi tutta la roba ripeto non servirà molto visto come stiamo messi veramente molto molto male dobbiamo sistemare ancora quest'altra ferita che ha iniziato di nuovo a a crearci problema e sta di nuovo cominciando a piovere da nazione peccato perché avevamo iniziato a trovare un po' di cose interessanti purtroppo quando si comincia ad andare in giro molto ovviamente si trovano cose interessanti uno dice vabbè la prendo perché ci può servire poi se non si riesce a trovare effettivamente qualcosa dove qualcosa da dove fermarsi e iniziare a mettere su una sorta di base un po' un casotto allora indossa sulla schiena e l'altro per il momento lo possiamo tenere benissimo all'interno del nostro cosa anzi lo mettiamo dentro l'altro stesso zaino così ok perlomeno siamo diventati un po' più leggeri per la roba che abbiamo addosso e lo zaino ha 20 di peso quindi abbastanza togliamo questa cosa del torace e lo rifacciamo con lo straccio un braccio sinistro straccio purtroppo è così ragazzi dobbiamo tenerci come ho detto cura di noi dobbiamo prenderci fasciatura sporca vediamo un po' qua in teoria quello che c'era prima non so se vuol dire taglio o altro però comunque si è sparito quindi buono siamo purtroppo riscesi nuovo a danno grave vediamo come andrà faccio sporco ce ne abbiamo tre e ce ne abbiamo due puliti allora vediamo se troviamo qualcosa qua c'è gli occhiali per che altro mi servirebbe da poter fare strappavistriti così fai degli stracci perlomeno puliti questo che ci serve ce ne abbiamo tanti e ci serve che siano puliti ok stiamo a cinque e sette ok allora niente qui lo so ci eravamo già stati però voglio vedere se magari ho dimenticato o lasciato qualcosa che in quel momento non ci poteva servire ma che in questo caso potrebbe farci comodo qui potrebbe darci qualcosa no ok sta piovendo dal vivo da me e sta anche piovendo nel gioco giusto che non fosse mancare niente allora in teoria questa roba l'avevamo già vista tutta io ero tornato indirò mamma mia ehi quanti e cercare di di trovare un'alternativa una strada che ci portasse da qualche posto un po' più tranquillo ma non è stato così purtroppo si sto facendo un sacco di di cacciare in verità scappiamo un attimo ehi il alliero oh cazzo certo pure io mi vado a passare in mezzo d'azione che era mi era sembrava tipo una bomba carta qualcosa un rumore molto forte vi ricordo non ci sono npc quindi so rumori che si sentono in lontananza ma effettivamente non c'è nessun altro a parte noi però fanno comunque ambiente diciamo da lontano senti qualcosa di molto forte comunque abbiamo torto una benda e qualcosa ci è comunque guarito io vorrei trovare qualche arma magari un po' più tipo questa in pugna primaria del cortelletto piccolino che insomma non mi dà molta sicurezza se si riuscissero a curare pure le altre anche se insomma stiamo messi veramente male forse qualcosa possiamo ancora fare però ripeto purtroppo lo stadio stomacato se non si toglie è tosta vogliamo intanto oh vada no che è tutta sta roba vediamo lo straccio sporco ok voglio proseguire un attimo lungo la riva vediamo se arriviamo da qualche parte un po' più tranquilla perché purtroppo tutta la parte sotto abbiamo visto è molto piena di zombie e nella situazione in cui siamo non siamo in grado di poterli affrontare insomma meno ci stanchiamo e meglio meglio è assolutamente fasciatura allora aspettate che qua la situazione è un attimo un po' più caotica ok rimuovi benda ok rimuovi e anche sul collo ovviamente ci facciamo questa è quella più pericolosa perché appena tolgo infatti prende scende in una velocità spaventosa vabbè è quella sul collo ovviamente e ci sta proseguo ancora avanti in realtà avremo anche un po' fame cibo sigarette non credo c'è tutto qua dentro una bella fetta di torta bella fresca ci può stare ok perfetto purtroppo sono ancora stanco crisi di nervi certo non è non c'è qualcosa che a me va a diminuire magari qualche cosa salite mangi sta cosa fame siete meno tutta questa aumenta addirittura la noia la maionese si dice ma è triste cazzo mi sto mangiando la maionese allora io sto continuando lungo la riva però una certa forse dovrei ritornare nell'entroterra perché non non se ne vede la fine insomma se questa è una sorta di costa è quello più che un fiume è un mare a voglia prosegui dritto insomma se non vado all'interno la vedo la vedo un po' complicata la faccenda vediamo se c'è magari all'interno che cosa c'è purtroppo il livello di che cazzo sono bagnato umido ci manca pure che san malamo dicevo il livello di simulazione su questo gioco è veramente veramente alto la sfida è molto alta ed ardua quindi bisogna prestare attenzione cercare di pensare che è una fattoria questa pensare bene cosa fare i movimenti da fare e anche eventuali azioni che potrebbero comportare dei rischi tipo quella che abbiamo fatto oggi allora questo è un po' laio cazzo infilamosi dentro ok perlomeno siamo al coperto ma soprattutto stiamo al sicuro e qua non c'è niente io direi di aspettare che spiova e che magari si sistemano qualche nostro stadio anche affaticato ovviamente quindi facciamo un po' di pausa allora mentre ci riposiamo ragazzi io direi che ci possiamo anche fermare qui mi dispiace che effettivamente di azione abbiamo visto poco però avete visto che non stiamo messi bene purtroppo abbiamo fatto uno sbaglio assolutamente ho fatto anzi non c'è tra niente ho fatto uno sbaglio quello di comunque uscire però ecco era presto rimane tutto il tempo l'aria inchiuso anche perché non ci faceva dormire e quindi il tempo non potevo farlo avanzare più velocemente se no andando manualmente a farlo avanzare però qualcosina forse siamo riusciti a sistemarla purtroppo per quanto riguarda le condizioni insomma non è non è proprio il massimo teniamo ovviamente le ferite sott'occhio cerchiamo di andarle ovviamente a sistemare magari ci prendiamo pure una bella vitamina che potrebbe aiutarci per il resto purtroppo non ho niente che possa aiutarci per quanto riguarda le ferite la pinzetta non ci fa niente insomma non possiamo farci niente non ho non ho medicine purtroppo quindi dobbiamo cercare di fare il massimo con quello che abbiamo andiamoci a sistemare un attimo di nuovo tutte le le bende poi ci andiamo a salutare ovviamente poi piano piano le ferite andranno a sistemarsi a fura di insomma pulirle togliere le bende ovviamente in base anche a loro alla loro gravità ovviamente c'è sto ah cazzo sono pure infetto ecco perché il collo c'ho l'infezione al collo ecco perché sono stomacato e purtroppo non ho niente non ho antibiotici c'ho solo le vitamine ma che cazzo ci faccio riduce la fatica ma non ci faccio assolutamente niente ecco perché ho adesso ho nauseato non so più stomacato bisogna prestar attenzione abbiamo la ferita sul collo che è infetta e potrebbe essere un grave problema se non troviamo qualcosa che possa aiutarci allora ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qui io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se fa piacere a lasciarmi un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se non l'avete fatto in descrizione trovate link ai social network e in alto adesso lei che vi riporta la playlist del titolo di nuovo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.